Ha visitato l'ospedale Maresca in occasione della riattivazione del pronto soccorso. Ieri pomeriggio il governatore della Campania Vincenzo Di Luca ha intervenuto a Torre del Greco per ringraziare gli operatori sanitari che hanno gestito questi mesi di emergenza sanitaria. Ad accompagnarlo la vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia e il consigliere regionale Mario Casillo. Presenti tutti i vertici dell'ASL Napoli 3 Sud. Abbiamo fatto innanzitutto una visita per ringraziare tutto il personale medico, infermieristico e amministrativo per il lavoro di questi mesi. Poi abbiamo realizzato due posti nuovi di terapia intensiva, sei di terapia semi-intensiva con un investimento importante. Ci prepariamo a fare i lavori per il terzo e quarto piano, quindi questo diventerà davvero un ospedale bellissimo. Dovremo fare anche dopo decenni i lavori di ristrutturazione. Arretto molto bene l'ondata Covid, l'ospedale, perché per sei mesi è stato un punto di riferimento per i pazienti Covid, oggi si è svuotato il reparto, quindi riprendiamo appieno l'attività ordinaria. Beh, era doveroso venire a ringraziare il personale e confermare l'impegno a potenziare e qualificare sempre di più nell'ospedale di Torre del Greco. Questo territorio attende un rilancio da anni che finalmente dunque arriverà. Credo proprio di sì, ce la stiamo mettendo tutta, con investimenti nelle infrastrutture, nella sanità, nei settori produttivi, nell'ambiente. Abbiamo dato un'occiata al panorama dall'ultimo piano dell'ospedale, è uno dei posti più belli del mondo. Stiamo lavorando per avere il mare pulito e balneabile tutto l'anno, ormai siamo a un passo, stiamo completando la rete di depurazione, di reti fognarie. Abbiamo tutto quello che ci serve per avere anche una prospettiva di lavoro per i giovani di queste nostre zone. Ce la stiamo mettendo tutta. Dopo l'incontro con il personale all'esterno del pronto soccorso, De Luca ha potuto ammirare il panorama dalla terrazza del quinto piano del vecchio padiglione. Quello che volevamo dare era proprio un senso di rinascita. Dopo un periodo che è stato devastante, dopo mesi che sono stati molto difficili e complessi, soprattutto perché ha gestito questa pandemia, questa situazione di estrema difficoltà che è stato il Covid, adesso questo è un momento di rinascita, quindi la voglia di ritornare alla normalità. La riattivazione di un pronto soccorso che riprende corpo meglio, posso dire, di come e quando ha chiuso, perché sicuramente abbiamo potenziato con delle presenze numeriche. Ecco, come è stato organizzato il lavoro degli operatori? Quali figure specialistiche ci sono all'interno? Guardi, all'interno del pronto soccorso ci sono gli specialisti di pronto soccorso, quindi le persone che sono all'interno sono il personale che è dedicato al pronto soccorso. Non c'è una specialità precisa all'interno del pronto soccorso, ma è un momento, come un PS di base, come quello che abbiamo in questo ospedale, un momento nel quale noi accettiamo l'emergenza, gestiamo l'urgenza e poi demandiamo ad attività, quando non sono presenti sul sito, ad altre location nel momento in cui dobbiamo gestire delle criticità particolari. Avete previsto anche dei posti di subintensiva? Sì, sono in fase di realizzazione, io credo che nel mese di luglio saranno attivati i lavori perché sono già stati appaltati, quindi anzi oggi dovrebbe esserci presente proprio la ditta che è già stata individuata per l'avvio dei lavori di sei posti di terapia subintensiva che saranno prospicenti al pronto soccorso, per cui dopo l'accesso al pronto soccorso ci sarà l'eventuale stazionamento in subintensiva nel momento in cui abbiamo delle situazioni da dover determinare all'interno della terapia subintensiva. E ci sarà il potenziamento invece in fase 2 dei reparti di chirurgia, medicina già è un ottimo reparto, lo abbiamo potenziato durante il Covid e quindi quei potenziamenti rimarranno, aiuteranno, amplieranno l'offerta di posti letto che già c'era precedentemente e in previsione la ristrutturazione del terzo piano e del quarto piano già in questa prima fase e speriamo di riuscire anche a fare il quinto piano magari con i ribassi d'asta perché l'investimento è di circa 6 milioni quindi contiamo di riuscire a recuperare risorse per concludere una prima fase che è la ristrutturazione di tutto questo corpo nel quale concentrare le attività di detergenza cercando di arrivare a un centinaio di posti letto attivi da qui ad un anno. Avete previsto anche investimenti in termini di attrezzature, apparecchiature? Naturalmente sono già in previsione, i finanziamenti stiamo cercando di ottimizzarli i 6 milioni li utilizzeremo tutti quanti dal punto di vista infrastrutturale quindi non tecnologico ma ci sono già dei grossi finanziamenti con il PNRR si parla di circa 200 milioni di euro che dovrebbero essere dedicati alla regione Campania che saranno ripartiti tra le aziende e stiamo preparando la lista della spesa oltre ai 6 milioni almeno riteniamo di spendere almeno un milione e mezzo di tecnologie su questo presidio Parlando di tempi, quando riusciremo a vedere tutte queste cose che avete in mente di fare? Guardi allora, luglio è l'avvio dei lavori dei sei posti di subintensiva ed è il primo step perché abbiamo già redatto anzi la progettazione verrà consegnata entro il 30 giugno l'avvio del cantiere è previsto nel mese di luglio i tempi dovrebbero essere tra i 4 e i 5 mesi per la realizzazione quindi entro la fine dell'anno i sei posti di subintensiva abbiamo invece il progetto esecutivo per il terzo e il quarto piano sono un investimento complessivo riguarda anche altre aree del presidio ma riguarda complessivamente un investimento di 6 milioni di euro siamo per bandire la gara nel mese di luglio i tempi di aggiudicazione della procedura dovrebbero essere entro l'estate quindi avvio del cantiere nel mese di settembre l'idea è di creare anche dei posti di terapia intensiva postoperatoria aggregati alle sale operatorie annunciati i piani di rilancio che interesseranno la struttura sanitaria a cominciare dai lavori per i sei posti di subintensiva poi l'ampliamento della chirurgia e gli interventi di ristrutturazione del terzo e del quarto piano di qui ad un anno come ha dichiarato il direttore generale della Napoli 3 Sud Gennaro Sosto l'ospedale Maresca potrà contare su un centinaio di posti le Gennaro Sosto Gennaro Sosto